Ciao, oggi un video dedicato al fai da te. Sono solo 5 minuti creativi per decorare la tua casa riutilizzando delle bottiglie di vetro o delle bottiglie di plastica. Le bottiglie di vetro o di plastica dipinte possono diventare degli oggetti, dei portoggetti, delle abajur, ma anche delle decorazioni natalizie. Tutto quello che ci serve è un barattolo di colore e dei pennelli. E tanta voglia di creare! Diamo una prima mano di colore sulla bottiglia. Lasciamo asciugare e quindi diamo poi una seconda mano. Io ho utilizzato una vernice all'acqua super versatile che non necessita nessun tipo di preparazione. Facile da utilizzare e questo mi piace molto, ma mi piace molto anche perché l'effetto finale è opaco, molto simile a quello della ceramica. Ma se ci si passa la cera invece l'effetto finale è lucido. Quindi usatela pure secondo il vostro gusto. L'idea di dare un tocco originale al nostro ambiente, riutilizzando degli oggetti quotidiani, mi piace moltissimo. Primo perché è ecosostenibile. E poi fa sì che l'interno della casa sia personalizzato e unico. Per esempio se avete delle luci colorate, una volta dipinto le bottiglie, potete avvolgerle attorno e creare così un'atmosfera natalizia. Così nel fine settimana mi sono dedicata al fai da te creativo pensando al Natale che si sta avvicinando. Realizzare queste bottiglie ve lo giuro è facilissimo, anche per chi non ha manualità. Il prodotto che ho usato si chiama Chalk Paint. Ha svariati colori e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ho avuto l'ispirazione per questo progetto grazie alla grafter americana Leah Griffith, che vi consiglio di seguire perché crea dei contenuti e degli oggetti veramente super carini. Vi lascio in descrizione l'elenco dei materiali che ho utilizzato per realizzare queste bottiglie. Mi raccomando, se l'idea vi è piaciuta, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qual è il vostro colore preferito. Ciao e ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao! Ciao!